Il GIP di Agrigento Francesco Provenzano ha disposto all'archiviazione delle accuse di omicidio colposo per 18 medici in servizio negli ospedali di Agrigento e Licata, indagati a seguito del decesso di Salvatore Mugnos, risalente all'8 maggio del 2018, dopo una serie di ricoveri. Secondo la tesi iniziale non gli erano stati diagnosticati due calcoli renali, ma dopo la consulenza medico-legale lo scenario sarebbe cambiato e la stessa procura ha chiesto l'archiviazione per i 18 indagati. Solo per il diciannovesimo dei professionisti al centro dell'inchiesta i pubblici ministeri hanno revocato la richiesta di archiviazione e la sua posizione è stata stralciata. Mugnos, che aveva 51 anni, era stato dimesso per due volte dall'ospedale di Licata e la terza volta era tornato in gravi condizioni dopo essere stato trasportato anche all'ospedale di Gela. I medici avevano disposto il trasferimento al San Giovanni di Dio di Agrigento, struttura ritenuta più attrezzata a gestire l'emergenza, ma ogni tentativo di salvarlo si era rivelato vano. Mugnos morì prima che si potesse tentare un intervento. L'uomo sarebbe andato per due volte in ospedale a Licata, restando in attesa. Dopo le dimissioni era tornato al pronto soccorso, ma le sue condizioni si erano aggravate in maniera seria e furono i suoi familiari a presentare una denuncia per chiedere che si facesse luce sul caso.